Tante persone arrivano così e vanno senza sapere che la montagna ha i suoi diritti di essere rispettata, perché la montagna non ti fa niente lei, sei tu. Deve essere proprio portato in te stesso di seguire a fare gli interventi di soccorso alpino. Perché sembra di dire sì, beh vai, ricupri la persona e vieni a casa. È tutto diverso la storia. È tutto diverso. Mettendo sempre 50 e passano che fu il soccorso. Ho iniziato da ragazzino che avevo 6-7 anni ad andare su in Grigna a prendere le piccole capri perché andavo su. Andavo su, scappavo, andavo su in Grigna. Andavo su a te e da lì ho cominciato a innamorarmi di questa montagna, a darmi un senso di qualcosa che dovevo capire cosa era questa grigna. che aveva fatto da fare la sala di balle, a Ivan Grigna, come è. Io ho fatto la valeria e passo su il Vangrino, su chi scande, su chi c'è e un po' da lì e succede l'imprevisto. Quando stavo in montagna, prima roba, bisogna andare via presto la mattina. Mi è speciale quando sono sulle ore, perché sono sulle ore già molto tardi. Per trovare il vetè, per trovare il temporale, per trovare la nebbia, per venire noc. Ho dovuto cercare tutto lo corrento per chi argomenta. E credo andare a fare una passeggiata, invece andare a fare giro della grigna è molto più impegnativa. Quando sei dentro, in mezzo alla neve, magari alta così, freddo dalla miseria, vento, tormenta, roba che arriva dappertutto. Non sai più come muoverti, non sai più come fare. E tu sei la persona che devi cercare di recuperare, perché altrimenti questa persona se ne va. E lì il momento è drastico. Quello che fai, devi farlo solamente non per te, ma per la persona che... che... che vai a recuperare. Che via? Alla guerriera bella senza pure Un cavallere andò ad offrirne il cuore Cantava a bere te voglio morire Lei dalla torre lo vede a sabire Desse alla sentinella che stava sopra il ponte Tira una freccia in fronte a quello che pensò Tira una freccia in fronte a quello che pensò Tu quando vai a frontare una montagna, una salita Quattissima salita che vai a fare Devi essere sicuro di te stesso Se cominci a dire Come sarà, come sarà la mia Passarolio, passarofan Come sarà con i altri orari Finito 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 Finito